In un tempo lontano una donna ricca e diabolica soleva lanciare dalla finestra del suo palazzo un fazzoletto. Colui che l'avesse raccolto e riportato sarebbe divenuto il fortunato che avrebbe passato la notte con lei. Purtroppo una triste sorte attendeva il prescelto. La donna. Era Olimpia Panfili, meglio conosciuta come la Pimpaccia. Ma queste sono solo leggende e a San Martino Alcimino la vita scorre lieta e lontana da queste superstizioni. O forse no. Ani, ma che sta a fa'? Ma non la sai la storia? Quella è il fantasma di donna Olimpia. Quella sta a cercare ancora le vittime. Buttalo quel fazzoletto. Buttalo. Ani, ma che sei del crognolo? Buttalo quel fazzoletto. Ma che vuoi morire? Buttalo. 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 C'è nessuno? Avrei trovato un fazzoletto, qualcuno nel palazzo, mi rispondi? C'è nessuno? 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 Tu non sei la mia faccia, tu sei la donna delle pulizie. Non puoi parlare, sei muta. T'hanno chiuso dentro? Scusa, non ti potevi affacciare, gridare aiuto? Sei muta. Ma il telefono? Morto. Ma quindi è tu che buttavi i fazzoletti? Ani, fermete un po' un attimo. Ani! Oh! Dov'hai? Ma chi è quella? Fermete un po' un attimo! Oh! 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 Ani! Oh! Vieni qua un attimo lui! Vieni qua! Oh! Vieni qua! 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 Grazie a tutti.